Il sindaco Di Stefano ha ufficializzato la nomina dei due nuovi assessori, Idem, Fava e Di Cristina, per settimane prima dell'accelerata. Anche in municipio si sono susseguite le valutazioni sulle norme che l'Arsa avrebbe potuto varare attraverso il DDL enti locali, comprese quelle per aumentare il numero di assessori, almeno uno in più, e per aprire alla consigliere supplente a garanzia del passaggio in giunta. Per ora rimane tutto congelato, l'Assemblea regionale infatti ha deciso che il disegno di legge deve ritornare in commissione sostanzialmente si riparte da zero. La maggioranza del presidente della regione Schifani pensava si potesse formalizzare un'intesa con l'opposizione, così non è stato e proprio l'opposizione hanno sparato a zero in direzione di una maggioranza in frantumi, così l'hanno definita. C'erano già state non poche polemiche quando proprio in una prima commissione era stata depennata la norma che avrebbe permesso di aumentare il numero di assessori a spese invariata. Per ora non se ne farà nulla uno stop che in prospettiva potrebbe incidere sulle prossime decisioni politiche di Di Stefano che dopo la nomina ai due assessori idem non sembra comunque avere alcuna fretta di rimettere mani a nomi e deleghe.